Ciao a tutti, oggi prepareremo la salsa alle noci. Il tempo di preparazione della ricetta è di cinque minuti circa. Ingredienti sono grigli di noci, aglio senza anima, parmigiano, mollica di pane, olio, latte, maggiorana, prezzemolo, basilico e sale. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo la mollica di pane a bagnole e latte. Mettiamo nel boccale le noci, l'aglio senza anima, la maggiorana, il prezzemolo e il basilico e il parmigiano. E facciamo tritare per dieci secondi a velocità 10. Finiamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il pane ammollato nel latte, l'olio e il sale. Ed azioniamo il bimbi per 40 secondi a velocità 6. riunire sul fondo del boccale e tritare ancora per 20 secondi a velocità 7. La salsa è pronta, trasferiamola in un contenitore. salsa alle noci si conserva in frigo per 2-3 giorni ideale da splammare su costini o per condire la pasta. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti!